Parliamo dell'ex silva perché sabato scorso a causa del forte vento sulla città di Taranto si sono diffuse polveri inquilanti provenienti dallo stabilimento siderurgico. L'Arpa Puglia ha anche confermato lo sforamento dei limiti del PM10. Quanto successo non va bene, è necessario cambiare rotta. Questo è il monito del vescovo di Taranto, Monsignor Santoro. Il sindaco intanto ha presentato un esposto in procura per chiedere chiarezza sull'accaduto. Il servizio di Alba Di Palo. Non va bene ciò che è successo. È secco il commento del vescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, a quanto accaduto in città sabato scorso dove a causa del forte vento le polveri dei parchi minerari dello stabilimento ex silva hanno reso cupo il cielo, episodio su cui anche la procura Ioni che indaga. Le strade, soprattutto nel rione Tamburi, sono state ricoperte da una cappa spessa di polveri provenienti dal sigerurgico e sparse dalle forti raffiche. È necessario cambiare rotta, dichiara il presule, convinto che quanto accaduto sia un disastro che dipende dal ciclo del carbone che scioglie il minerale e questo va stoppato. Il vescovo ritiene necessario intervenire seriamente, dando seguito a una sostituzione del ciclo del carbone con energie alternative, invertendo seriamente la rotta. A confermare l'inquinamento scatenato dal vento sono i dati dell'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che evidenziano il superamento del valore del PM10 a Taranto nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 16 di sabato scorso. Lo rende noto Pislink, l'associazione ambientalista da sempre impegnata nella lotta contro l'inquinamento. E il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha depositato in procura un esposto con cui l'amministrazione comunale chiede all'autorità giudiziaria di fiare chiarezza su quanto accaduto. Nell'esposto, che è stato firmato anche da tutti gli assessori comunali, si chiede che vengano verificate le fonti emissive delle polveri, verosivilmente provenienti dall'area industriale ex silva, sollevate dalla tempesta che si è abbattuta su tutto il territorio cittadino. Il Comune vuole che venga accertata l'avvenuta attuazione di tutte le prescrizioni e delle procedure previste dalle norme in materia ambientale, individuando nel caso chiunque risulti responsabile dell'eventuale commissione di condotte lecite dei danni occorsi alla salute dei cittadini al territorio. Il fronte cittadino è compatto, dice Melucci, andiamo avanti tutti insieme per affermare il principio assoluto della tutela della salute. E intanto in città è stato costituito il Comitato per la salute e l'ambiente, che chiede lo stop degli impianti ex silva, sottoposti a sequestro per il rischio inaccettabile che costituiscono, la costituzione di un osservatorio mortalità in tempo reale e disaggregato per quartieri a Taranto, la bonifica e riconversione dell'area produttiva. La definizione di un piano strategico di un riassorbimento delle maestranze del siderurgico e la rivendicazione della partecipazione ai processi decisionali in campo ambientale e civile, così come previsto dalla Convenzione di Arus e da ogni altra normativa nazionale e internazionale, sono le richieste contenute nello statuto del Comitato.